10.000 lavoratori tra operatori edili e tecnici specializzati. E' ciò che di fatto il mercato del lavoro cerca nel settore pugliese delle costruzioni e che nonostante la varietà e il gran numero di profili ricercati in un periodo in cui tanti sono i cantieri per l'ammodernamento delle infrastrutture finanziati anche dal PNRR, le imprese faticano a reperire. Per questa ragione l'ITIS Academy Cuccovillo di Bari, in collaborazioni con Ance Puglia e Ance Baribat, ha lanciato il nuovo Digital Construction Specialist, un percorso di istruzione post-diploma che formerà profili tecnici in grado di supportare la gestione di tutte le fasi dell'intervento edilizio. Ance ci ha da tanto tempo chiesto di lavorare insieme, di fare qualcosa di positivo in questo settore e dopo un bel po' di mesi di collaborazione, di progettazione a quattro mani, di analisi, dei fabbisogni, un'analisi di fabbisogni che veramente è stata capillare con tutte le aziende del settore, allora abbiamo individuato alcune figure professionali, non potevamo partire con tre corsi, siamo partiti per ora con questo che sembra il più rispondente a quelli che sono le necessità immediate. I giovani formati con questo percorso troveranno occupazione nelle stazioni appaltanti, nelle imprese di costruzione o più in generale in aziende manifatturiere operanti nella filiera delle costruzioni. Mancano le figure di project manager, di assistenti di cantiere, figure che devono avvicinare sempre più questa idea che è un mio cruccio, avvicinare sempre più i giovani all'edilizia che l'associamo a un settore dove è faticoso, ma la topografia oggi si fa con i droni, oppure la digitalizzazione di tutta la parte cantieristica, oppure tutta l'assistenza BIM di un cantiere.